Cosa significa veramente tradire? Se lo è chiesto la regista di origine iraniana, Massi Tajedin, nella pellicola Last Night, che dà il via alla quinta edizione del Festival del Cinema di Roma. Una notte è l'ultima per decidere cosa ne sarà della relazione che intercorre tra due giovani belli e di successo di New York, interpretati da Keira Knightley e Sam Worthington, che per motivi di lavoro passeranno a separati. Lui è a Filadelfia in compagnia di una procace collega di lavoro, Eva Mendes, e lei nella grande mela, insieme ad un vecchio amore, Guillaume Canet, che pensava appartenere al passato. Due storie parallele di due amanti così giovani da risultare acerbi, che nonostante il grande amore che li tiene uniti, metteranno a repentaglio la loro storia andando incontro a conseguenze imprevedibili. Cos'è quindi il tradimento e cosa lo provoca quando di mezzo non c'è rabbia, invidia o gelosia? Grazie a tutti! Grazie a tutti!